Ciao, io sono Walter, il chitarrista di Broker & Friends. Quattro anni fa abbiamo deciso di fare un progetto impossibile, inseguire il nostro sogno e realizzare un disco. Solo che ora per pubblicarlo abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Sfletto Lulla è il nostro album di soldi, frutto di quattro anni di lavoro. Negli ultimi due anni abbiamo girato il Sud Italia come tributo ente di un uomo. Ogni singolo centesimo è stato reinvestito per le registrazioni del disco. Sfletto Lulla è il nostro album di soldi, frutto di quattro anni, frutto di quattro anni, frutto di quattro anni, frutto di quattro anni, frutto di quattro anni. Anche ormai. Grazie a tutti Grazie a tutti